Benvenuti su Tg7 Basilicata. La Task Force regionale comunica che ieri 2 aprile sono stati processati 1.693 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 99 fra questi 93 relativi a residenti in Basilicata sono risultati positivi. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.735, di cui 4.548 in isolamento domiciliare.